che ha detto? buongiorno mentre Dario è andato a vedere in macchina se c'è il mio cappotto perché non trovo più il mio cappotto cioè non trovo mai nulla in realtà comunque ho fatto quest'outfit con questo nuovo maglione bellissimo, nuovo acquisto sotto ci ho messo la camicia in realtà però c'è il segreto perché ho messo sotto anche una gonnina perché ho paura che quando mi abbasso se io da qualcosa quindi in realtà potrei metterlo o così oppure così con la calza e questo stivale basso perché dobbiamo comunque camminare un po' voglio stare comoda poi con Daniel diciamo che i tacchi sono molto rari comunque vi piace? sono tornata su youtube, c'è anche Pupi ciao ciao esci del sole grazie voi non ci crederete ciao ma quanta bellezza, ma quanto sono bella cioè ma ditemelo vabbè che poi c'è gente che ci crede davvero ovviamente scherzo buongiorno benvenuti in questo nuovo video una vita che non ci vediamo mamma mia ragazze quante cose sono cambiate vi devo aggiornare un po' sulla mia vita comunque adesso stiamo andando a fare una passeggiata sotto casa perché comunque è una bellissima giornata e poi vi devo raccontare un sacco di cose ma chi mi segue su instagram ho già aggiornatissimo ma lo sapete che mi sono spostata quasi completamente su instagram perché il mio lavoro comunque è tutto lì però ogni tanto vorrei aggiornarvi anche con youtube facendo qualche video quando queste nuove barrette ragazze che non potete capire quanto sono buone questo è gusto brownie di SoShape le adoro aspettate adesso mi prendo una fanno pochissime calorie fanno 10 proteine e senza zuccheri me ne prendo una brownie e una vanilla al mondo per mettere Dario mandorle e vaniglia adoro guardate mi sono fatta un super rifornimento perché mi sto trovando così tanto bene con questi prodotti SoShape mi sono fatta una scorta questi sono tutti gli shape dolci io ho preso gusto cappuccino brownie e no per ora cappuccino e brownie e sono buonissimi sono di cioccolata adoro infatti Pupi sta qua perché sente il profumo di cioccolato è vero lei adora il cioccolato comunque ragazze vi giuro che mi sto trovando veramente veramente da Dio ecco ho preso anche cioccolato ma quanto sono buoni questi shape veramente veramente buonissimi poi come gusti invece salati vabbè ci sono tutti i manuali di istruzioni ho preso arrabbiata sì pasta arrabbiata con la sua pastina e la mac in cheese che ragazze non so se mi è rimasta perché l'ho già fatta tante volte ed è buonissima con questo tipo di pasta avevo pubblicato anche su instagram la storia eccola qua ragazzi è proprio quella americana buonissima la cosa bella che questi pasti sono formulati da esperti nutrizionisti quindi hanno tutti i valori nutrizionali ottimi per essere light e apportare la giusta quantità di macronutrienti macro e micronutrienti quindi sono perfetti e anche oltre che essere ottimi insomma per perdere chili ma sono anche buoni di sapore quindi non sembra di stare a dieta poi ho preso anche la granola per appunto metterla nello yogurt nel latte ma guardate risotto al curry ma poi è semplicissimo da preparare quindi io mi sto trovando da dio gioca con le palline loro questo fanno la mattina giocano lui e lei vero? e lui le tira anche il giardino daniel ti reggio chi non ha pupi daniel ti reggio chi non ha pupi guarda tieni daniel aspetta pupi te lo tira daniel aspetta pupi te lo tira daniel aspetta mamma mamma mia vai tieni vai tira aspetta pupi no va bene non lo fa vai tira non vuoi vedere qua cosa c'è vuoi vedere qua e guarda mi piace sei tu ciao amici hai visto giocate tu e pupi mamma ti riprende ti piace ti piace questa sei tu sei carino c'è la festa di natale i gazzini di natale guardate che bello amici saluta tutti gli amici di youtube poi quando ti fai più grande ti vedi anche tu ciao a tutti a tutti a tutti a tutti Gioca con Pupi eh! Cosa c'è? No mamma, ma ancora posso dare? Sei piccolo ancora! Ho preparato la tavola. Bella la mia tavola che ho preparato con le tovagliette di Natale. Adoro! E questi fiori che abbiamo preso oggi, non sono bellissimi? Si intonano anche alla mia maglia. E adesso preparo il pranzetto so shape. Come si prepara, anche se è semplicissimo ed è scritto anche sul manuale che vi esce con l'ordine. Quindi attraverso lo shake, ecco qua, misurate la quantità di acqua e nel microonde in pochi minuti è pronto il vostro pasto caldo. Io ne fratevo. E allora vado a mettere la pasta qua, aprendo la bustina. Dopodiché ci aggiungo la quantità di acqua misurata nel shake sempre. So shape e vado a mettere nel microonde. Così come sta. Grazie, oggi è una bellissima giornata di sole. Cioè veramente bello, bello, peccato non poter uscire. Qua abbiamo già messo le calze, guardate che belle. Mi hanno fatto una ragazza troppo troppo carina con i nostri nomi. Abbiamo alzato dalla televisione. E qua abbiamo messo tutti i giochi, non ci fate caso. Ormai il mio soggiorno è sempre disordinato. Qua c'è tutta l'area giochi di Daniel. E qui abbiamo alzato perché lui praticamente rischiava di... Praticamente era sempre con la testa nel televisore, almeno così un po' più distante. E poi rischiava proprio di tirarsela addorso. Quindi l'abbiamo preferita metterla al muro. E niente, adesso lui sta facendo un po' di riposina, dopo ve lo faccio vedere. Qua ci sono mille giochi. Quando si ha un bimbo, ditemi se non ho ragione, ormai addio ordine in casa. E dopo quattro minuti circa, comunque assaggiate, è cotta la pasta. Senza scolarla, aggiungete la bustina. Ragazzi, ecco qua il risultato. Guardate quanto è cremosa. Cioè, riuscite a vedere? Guardate qua che meraviglia. Cioè, ha una cremosità questa pasta. Ma veramente, veramente buona. Anche il sapore è buono. Cioè, gli ingredienti sono ottimi. Questa è la cosa che mi ha colpito di questi prodotti. Sono talmente buoni che veramente non sembra di stare a dieta. Ragazzi, eccomi con il mio bel piatto di pasta all'arrabbiata. Buonissima. Adesso me lo gusto. Faccio anche un mucco anche nel vlog. In realtà, questo è un po' il video aggiornamento. Perché vi voglio un po' aggiornare su Daniel, sulla casa. Un po' su come stiamo vivendo anche questa quarantena. Fatemi sapere anche la vostra. Io sono molto molto presente su Instagram. Vi tengo compagnia ogni giorno. Ed è molto più immediato rispetto a YouTube. Mi dico la verità. E quindi, lì sono molto molto più presente. Cerco di tenervi compagnia. Anche la campagna è diventata zona rossa. Quindi, purtroppo, comunque, non possiamo uscire, eccetera. Però, la cosa importante è che abbiamo la salute. Io spero che voi siate tutti in salute. Che stiate bene. Raccontatemi nei commenti, insomma, come la state vivendo. La pasta è buonissima, ragazzi. Ma veramente, veramente buona. E vi dico che sto provando il programma So Shape. Sono a metà percorso. Ho scelto quello da 14 giorni. Per perdere, appunto, qualche chiletto. È ottimo. Il metodo funziona in questo modo. A colazione, si prende uno shake. Appunto, quelli la dolci. A pranzo è libero. E la sera, il pasto So Shape. Io a volte l'inverto anche. Quindi, magari la sera voglio stare leggera. Mangio tipo un'insalatina con un secondo. E a pranzo mi faccio il pasto So Shape. Che ci sono tantissimi gusti. E sono tutti buoni. Ho provato anche la pasta mac and cheese. Il riso al curry. Sono tutti ottimi. Vi lascio il mio codice sconto. Che è Carlita Gusti. E il link per accedere al sito. Ve lo metto nel box informazione. Voi, con questo codice, avete l'opzione doppi gusti gratuita. Quindi, praticamente, questa opzione che si pagherebbe, voi l'avete gratis. E potete inserire, quindi, più gusti. Avete la possibilità di provare più gusti gratuitamente. Io vi dico che tutti quelli che ho provato sono veramente, veramente ottimi. In base poi alle vostre esigenze. Quanti chili volete perdere, eccetera. Io vi dico che mi sto trovando molto molto bene. Anche perché, comunque, i prodotti sono buoni. Veramente non sembra di stare a dieta. Già ho perso qualche chiletto. La cosa bella è che mi sento leggera. Ma comunque energica. Perché si perdono i chili naturalmente. Quindi, senza l'effetto yo-yo delle diete, quelle drastiche. E' veramente, veramente una cosa che vi consiglio. Se volete sgonfiarvi un po', o anche proprio perdere dei chili. Provate perché è un metodo, veramente, che funziona. Super innovativo. Quindi... In frattempo che mi finisco la mia pasta perché, vi ripeto, l'adoro. Ho il codice sconto nel box informazione. Ricordate che il codice è Carlita Gusti per ordinare. In frattempo, vi volevo un po' aggiornare sulla situazione. Casa, soprattutto. Ragazze, sono troppo contenta. Perché, veramente, dopo quasi un anno di progettistica. Perché, comunque, la casa è molto grande. E... Comunque, è una villa a tre piani. A sia esterno che interno. Ha bisogno di molto tempo per progettare. Ci siamo anche un po' fermati a causa del covid. Quindi, adesso, fortunatamente, abbiamo finito i progetti. Quindi, stiamo iniziando con i lavori. E non vedo l'ora. Vi voglio già far vedere anche i progetti su carta, nel video. Così, magari, iniziate a vedere, a fantasticare assieme a noi. A capire di cosa si tratta. E anche a darci dei consigli. Quindi, fatemi sapere se vi fa piacere. Io condividerò sicuramente tutto su Instagram. Perché ormai là, lo sapete, c'è la mia vita. 24 ore su 24. Quindi, se non mi seguite, seguitemi. Carità dolce su Instagram. Però, se volete, anche qua su YouTube, posso farvi qualche video. Non tantissimi. Però, ne posso fare. Tipo, uno a settimana. Ogni due settimane. Di aggiornamento generale. Non so dove sto guardando. Perché sto guardando là. Poi, addobbi casa. Vorrei addobbare casa. Vorrei fare l'albero. Vorrei aspettare almeno dicembre. Non so, voi già l'avete fatto. Mi sembra un po' prematuro farlo prima. Anche se, molte persone so che lo stanno facendo prima. E vorrei fare un video anche su questo. Poi, che cos'altro? Non so. Lasciatemi anche voi delle richieste. Nei commenti per video. Così magari io. Quando ho un po' di tempo. Perché tra shop online. E il mio lavoro comunque di influencer. E tutto resta presto. Veramente il poco tempo. E poi soprattutto perché ho un bimbo piccolo. Che ha bisogno di me. Quindi. Però. Ci tengo tantissimo a farvi qualche video. Voglio restare comunque in contatto con voi. So che tante non hanno instagram. Fatevelo. Però. Alcune sono resti a farse. Mi seguono solo su youtube. Quindi anche per voi. Voglio comunque continuare. Mamma mia che buona. Che ragazzo. Buonissima. Vabbè. L'ho. L'ho praticamente finita. Buona buona buona. Ricordate. Il. Il link. Ve lo metto in box formazione. E il codice. Carlita Gussi. Provate veramente. Se volete provare quella che ho provato io. La 14 giorni. E poi fatemi sapere come vi trovate. La finisco. E poi torno da voi. Si è dato che Dario è sopra con Daniel. Io ho preparato. Questo bel piattino. E adesso glielo porto in camera. Che dite? Sarà contento? Dario è felicissimo. Guardate qua che c'è. Il nostro amore. Ragazzi. Guardate quanto è bello il mio amore. Bellissimo. Guardate com'è questa pasta. Buonissima. Veramente buona ragazzi. Ovviamente quando preparo il pasto per me. Lo preparo sempre anche per Dario. Così fa anche lui un po' di dieta. Fate anche voi così coinvolgete i vostri mariti. Comunque questo video è blog, bookbag e ASMR tutto insieme. Vero amore? Com'è? E' anche un video un po' porno. Un po' porno. Vero amore? Ah com'è buona. Buonissima. Vabbè ti lascio mangiare. Buon appetito amore. Com'è? Preparate tutto questo per pranzino. Pranzino, pranzetto. Ups. Non mangiare. Bello vedete mangiare. Buono. Com'è? Buonissimo. Buon appetito. Ma io ce l'ho mangiata. Aaaaah. Questo è per tutte le tue follower amore. Aaaaaaaah. È quasi finito. però provate su shape, è veramente veramente buono consigliato anche da Dario buono ragazzi allora oggi io la mattina mi faccio sempre uno shaker con questi qua di so shape il mio preferito è cioccolato adoro, ma vi voglio far scoprire dei cereali che vi faranno impazzire granola, io ho anche impassato è aperto ma non si apre perché ha una chiusura questa è una cosa importante, ha una chiusura veramente super ermetica così non si fanno, cioè non diventano stanti, sono sempre croccanti la granola io la amo questa di so shape ragazzi, non so se riuscite a vedere è proprio fatta in un modo specialista, guardate qua cioè, guardate a parte ci sono tutti i pezzetti di cioccolata dentro, quanto vuoi vedete tutti questi agglomerati di cereali che sono super croccanti e se guardate i valori sono tutto senza zuccheri come tutti gli snack dolci di so shape anche le barrette tutto senza zuccheri e sono ricchi di proteine e di fibre vedete sono buoni questo cioè, dovete è obbligato a prendere obbligatoriamente prenderne un paio di pacchi infatti io ne ho presi due pacchi perché sono veramente buonissimi faccio vedere anche i valori nutrizionali sono ottimi ragazzi perché appunto sono senza zuccheri vedete poi sono ingredienti proprio di qualità e voi li potete andare a mettere nel latte nello yogurt io adesso me li metto nello yogurt a cucchiaiate mamma mia ragazza e cosa ci sta di meglio no ma sono la vita li dovete trovare comunque vi metto il link del sito nel box informazione dove trovate tutte queste cose stupende e potete scegliere fra i tre programmi ho scelto quello di 14 giorni ricordatevi mi raccomando di inserire il codice Carlita gusti al momento dell'acquisto così avete anche l'opzione dei gusti doppi gusti in regalo guardate lui si è vestito da renina il mio amorino è vero mamma ti ha vestito da renina mi ha quasi fatto male perché ieri si è dato il telefonino in fronte non pensavo il mio telefonino fosse così pesante invece si cucciolo già gli ho messo le cremine guardate quanto è bello con queste tutine e c'è anche ovviamente pubblico c'è un bel sole ah che meraviglia vero mamma siamo felici siamo felici sì non puoi in più perché poi praticamente quando torna il papà io pubblico un video lui è io sono pochi video su youtube dove l'ho mostrato però ieri abbiamo rivisto quello l'abbiamo pubblicato dopo sul televisore grande quello del battesimo e lui si guardava quindi glielo voglio poi far rivedere casomai vi pubblico la sua reazione poi nelle storie su instagram vi faccio vedere questo video lei che vuole rubare la pallina è troppo forte quando si rivede in tv vi farò vedere nelle storie instagram la sua reazione e loro ora giocano ragazzo questa barretta è buonissima mamma mia non potete capire quanto è buona vi giuro tra le barrette più buone che abbia mangiato cioè non sembra neanche una barretta proteica eppure controllando contiene tantissime fibre e proteine quindi è perfetta da inserire come pasto dolce al mattino nel programma so shape ma anche semplicemente per stare in forma perché comunque ha pochissime calorie ma vi giuro che questa qua questo brownie comunque ci sono tantissimi gusti sul sito vi metto il link nel box informazione questa gusto brownie veramente veramente buona poi tutti i pasti so shape sono approvati dalle autorità sanitarie europee quindi comunque si tratta di prodotti di qualità e contengono tutti i macronutrienti necessari ad esempio un pasto contiene 227 calorie contiene tutto quello che serve quindi non vi sentirete mai affamate o senza energia questa è la cosa bella ci sono tre challenge che potete scegliere comunque ragazze la cosa fondamentale è che i prodotti sono realmente buoni non vi sembra di stare a dieta voto 10 invece mangia pollo con zucchine sta mangiando anche pezzettini ragazze noi siamo tanto contenti vera mamma il poli scusa mamma il polino com'è? buono buono stasera ho fatto il risotto al curry by So Shape guardate qua che meraviglia questo è buonissimo veramente veramente buono e pensate che ha soltanto 230 calorie perché ogni pasto So Shape corrisponde al 50% del fabbisogno nutrizionale giornaliero e soprattutto voi potete scegliere fare tre programmi di perdita di peso 5, 14 e 28 giorni io ho scelto 14 giorni che vi aiuta a perdere 2-3 chili però potete scegliere anche 5 giorni per eliminare giusto gli eccessi e sgonfiarvi un po' oppure la challenge 28 giorni nel frattempo si è appannato tutto che vi fa perdere 5-6 chili comunque un metodo che veramente vi straconsiglio perché veramente una perdita di peso sana e duratura senza effetto yo-yo e adesso vi mangio il mio risotto non fate caso a me aspetto ma io sono appena uscita dalla doccia mi sono fatte i bendaggi non potete capire ho le gambe praticamente pazzesche mi sono fatte i bendaggi drenanti anticellulite adesso i fanghi adesso mi faccio il massaggio con l'olio e la crema comunque la cosa pazzesca è che abbiamo messo iniziato il black friday la black week su caritashop.com quindi se andate sul sito vedete che c'è un codice che si chiama black week che appunto vi dà il 20% su tutto il sito quindi io vi straconsiglio di provarli di prenderne anche tanti pacchi perché adesso che c'è il 20% risparmiate un botto sono buonissimi questi bendaggi poi comunque la mia routine consiste in bendaggi fanghi anticellulite anche questi sono buonissimi scaricata la batteria vi dicevo dopo i bendaggi faccio sempre i fanghi poi faccio quest'olio faccio un massaggio con quest'olio questo ve l'ho consigliato tantissimo anche quando ero incinta vi ricordate perché è ottimo contro le smagliature e anche comunque contro la cellulite quindi fate un bel massaggio già l'azione del bendaggio dopo di questi fanghi questi sono la vita ragazzi sono anticellulite modellanti sono buonissimi vi modellano proprio il corpo alla fine termino sempre con una crema quindi questa qua è la crema rassodante e ora sto usando questa qua e vi dico la amo tantissimo ragazzi è troppo buona questi sono tutti prodotti naturali e ovviamente li trovate adesso scontati su caritashop.com quindi vi dico approfittate anche a prezzo questa qua è una crema anticellulite caffeina rassoda e snellisce è buonissima ragazzi e poi ha un profumo di cioccolato cioè io ve lo vorrei far sentire ha una mousse è troppo buona ha un profumo di cioccolato buonissimo ve la straconsiglio comunque andate su caritashop.com che trovate il banner con il codice sconto e approfittate della black week del black friday perché risparmiate tantissimo su tutto il sito buonanotte buonanotte a tutti buonanotte a tutti ciao 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 ciao